E' stato dato il via alla rinomata manifestazione Cine Nostrum da Sicilia Etna Golf Torre di Casalotto con una conferenza stampa moderata dal giornalista Antonio Foti in presenza del sindaco Margherita Ferro e del direttore artistico Francesco Grasso. Quest'anno il programma delle quattro serate vede protagonista l'attore e regista Raul Bova il quale in presenza dei giornalisti ha raccontato le tappe del suo percorso sportivo cinematografico e che ritroveremo dal 27 al 31 luglio sul palco di Piano Umberto di Eccicatena. Presente alla conferenza di presentazione Anna Comin ha detto stampa storico di Sordi, Verdone, De Sica, Banfi e altri grandi nomi. Cine Nostrum 2024 apre i battenti con un talk show condotto da Salvo La Rosa in presenza di Raul e diverse personalità del settore cinematografico a cui seguirà la proiezione del film Scusate se esisto. Le proiezioni dei film di successo del famoso attore si susseguiranno ogni sera sul megascermo della location. Sono contento, ringrazio la sindaca e tutta l'organizzazione del festival. Mi sembra un festival molto molto bello, originale, con un'idea nuova che parla di cinema, parla dei film, prendendo a differenza di tutti gli altri festival che ci sono tanti artisti, qua di artista ce n'è uno, però ci sono tanti film e legato a quest'artista poi ci sono tante figure che verranno ospitate, con cui si parlerà dei progetti, dei film e quindi è un modo veramente nuovo di parlare di cinema, di spettacolo, di arte, di cultura e quindi sono contento di essere qui. La Sicilia per me ha rappresentato i miei inizi, ho lavorato moltissimo qui sia con la televisione che con il cinema. Adesso un po' meno, ultimamente un po' meno, quindi devo dire che mi manca molto, mi manca molto questa terra, mi manca l'odore, il sapore, tutta la gente.